Alla fine ho pensato che fosse giusto fare questo video, brevissimo, anche perché è tanto inutile ragazzi che ci giriamo attorno E' da un po' di mesi ormai che questa cosa va avanti e un po' di mesi che il messaggio è passato a tutti Non solo ad una piccola parte, tanto da dire, nessuno lo noterà, in realtà tutti l'hanno notato E per tutti intendo anche gli altri piani, nomi importanti che ovviamente conoscete perché per chi mi segue da tempo ormai sa con chi collaboro, con chi lavoro Per cui questo mi ha creato dei problemi, stupido io a non dirlo prima Ho voluto tenerlo nascosto ma evidentemente non ce l'ho fatta, evidentemente non sono bravo, non sono bravo a mentire, non sono bravo a nascondere le cose E soprattutto quelle che riguardano me come persona perché alla fine, sì, ok, video, ma non ho mai creato un personaggio Di conseguenza ciò che vedete nei video effettivamente è il Raffaele o Draven se preferite che è in real life Quindi così come sono qua lo sono anche fuori Ribadisco, è errore mio a giocare tanto su questo punto, così tanto da far credere che non fosse vero ma in realtà lo era Coloro che ho sempre chiamato haters, alla fine sì, probabilmente sono haters ma come per tutti, li hanno tutti Ma nel mio caso sono stati così tanti per essere io piccolo nella piattaforma perché un motivo c'era, un motivo c'era, loro l'hanno notato da subito E il motivo forse per cui non sono piaciuto Ma comunque ragazzi non ci perdiamo in altri discorsi, non ci dilunghiamo, anzi probabilmente mi sono dilungato anche troppo Lo confermo, ve lo dico, anche se già lo sapete, o quantomeno aspettavate solo che venisse fuori da me direttamente Visto che non è mai fuoriuscito Sì ragazzi, sono un cariato Ora ditemi Aspettavate solo questo momento, vero? Pesce d'aprire Questo mi ha creato dei problemi Stupido io a non dirlo prima Torca d***a Stupido io a non dirlo prima Stupido io a non dirlo prima Ah, madonna Oh Gesù Che liberazione Mio Dio Stupido io a non dirlo prima